la parzelletta di ceppo insomma ci stanno siamo in mezzo alla foresta e stanno due tartarughe che stanno a parlare a un certo punto una che fa quell'artarughe ma che hai fatto un testa questa buona ieri ho dato una capusciata alla mensola della cucina guarda che figozzo mamma mia momenti di spacchia la testa speriamo che mi passa stasera perché e se no mi tocca di passare la notte fuori casa la speglia dei gladiatori la speglia dei gladiatori dimensione suona roma